ore 1 e 50 bulgare finalmente siamo arrivati siamo arrivati a sani becchi alla nostra stanza dell'hotel bohemi una stanza davvero deve essere un po sistemata l'unica pecca di questa stanza signori è che mancava una cosa importantissima frigo bar tanti progetti all'aria adesso stasera iniziamo a volare sopra il luogo della prima sera seguiteci sempre we fly we flower